Grande successo per la serata delle fonti awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di Le Fonti TV. La serata è proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi che aveva come focus il mondo delle risorse umane e del diritto del lavoro. Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Telecomunicazioni, il premio va a SIAT Installazioni. La motivazione per questo premio, per essere un'eccellenza nella realizzazione di impianti per telecomunicazione in ambito energetico, per essere una realtà vincente con 40 anni di storia, in particolare per il continuo investimento in attività di HR e Research and Development che vedono il conseguente sviluppo di progetti innovativi di elevata qualità e di successo. Benvenuti e complimenti, bravi complimenti. SIAT Installazioni riceve il premio, la foto di rito a cui ne seguiranno altre, prego. Dottor Limatola, la società SIAT Installazioni ha vinto il premio a Le Fonti Awards 2019 come eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership nelle telecomunicazioni. Come commenta questo prestigioso riconoscimento? Beh, innanzitutto ringrazio, siamo grati e orgogliosi di questo importante riconoscimento frutto del duro lavoro che ha fatto tutto il team della SIAT Installazioni a partire dai nostri operai, i nostri assistenti, i responsabili, i dirigenti, la direzione tutta. In qualche modo noi siamo convinti che lavorare sodo in un ambiente sano, piacevole, ma allo tempo professionale e giovane sia la giusta strada per crescere e per raggiungere nuovi traguardi. Per cui ovviamente vi ringrazio alle fonti TV e stendo i complimenti a tutta la mia squadra. I vostri più recenti progetti riguardano l'ambito energetico e l'emergente settore dell'e-mobility. Alcuni di questi vedono anche la collaborazione con diverse realtà di un certo spessore. Come sta reagendo il panorama italiano anche a confronto con il resto dell'Europa di fronte a queste tematiche? Esistono secondo lei delle politiche europee di incentivazione? Dunque, noi negli ultimi anni abbiamo avviato una diversificazione del nostro business, quindi a partire dal nostro storico settore delle telecomunicazioni e ci siamo in qualche modo affacciati al settore dell'energia in senso lato. Quindi non solo la parte tipica dell'energia, ma anche le più recenti tecnologie come quella dell'e-mobility. In particolare stiamo lavorando con il gruppo Enel per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica e in questo momento l'Italia è un po' indietro rispetto al resto dei paesi d'Europa. La cosa non ci sorprende ovviamente, però c'è da dire che siamo abituati, la nostra storia ci insegna che noi italiani siamo abituati dalle situazioni più critiche a uscirne in maniera vittoriosa e quindi anche in questo caso l'Italia ha un piano sfidante di una realizzazione importante nei prossimi anni di una rete di infrastruttura per la ricarica degli autoveicoli elettrici e quindi noi crediamo in questo nuovo settore e siamo quindi entrati con piacere in questo ambito con il gruppo Enel. Sicuramente anche il nostro governo ha fatto dei passi importanti, ha dato incentivi, ha dato la possibilità anche di rinnovare il parco auto con nuove forme di mobilità elettrica. Grazie a questi incentivi si potranno anche realizzare delle infrastrutture di ricarica domestiche e quindi in qualche modo l'Italia ritornerà anche in questo campo all'eccellenza a cui siamo sempre abituati. Siat, installazione è una realtà pluriennale che proprio quest'anno compie il quarantesimo anno di attività. Quali strategie sono state adottate per risultare competitivi sul mercato nazionale e quali sono le sfide più difficili da superare? Effettivamente come ha giustamente sottolineato, quest'anno raggiungiamo un traguardo veramente importante per noi, i quarant'anni di storia sono tanto per un'azienda. La nostra è un'azienda familiare, è sempre stata un'azienda familiare, crediamo in questo valore e qui insieme a me c'è tutta la seconda generazione dell'attuale proprietà e in qualche modo abbiamo anche trasferito questi valori a tutto il nostro personale. Noi abbiamo investito molto nel capitale umano, abbiamo superato quota 400 che vuol dire ovviamente dimensioni anche importanti e con diciamo ovviamente sempre l'obiettivo di guardare avanti. In qualche modo nonostante anche una situazione dell'economia nostra, del nostro paese che non brilli i nostri obiettivi sono ulteriormente di crescita, sana e sostenibile e diciamo in qualche modo la sfida con cui dobbiamo confrontarci come al solito sarà sempre la prossima e quindi ogni volta in qualche modo cerchiamo di alzare la nostra asticella.